Segui il tuo istituto, libera il tuo caos. 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 L'arte erano realizzati inizialmente dai pazienti degli ospedali psichiatrici, che usavano l'arte come modo di esprimere le loro emozioni e tirare fuori tutto quello che in realtà non potevano esprimere a parole. Quindi è una sorta di arte dei pazzi? No, no, assolutamente. È l'arte di tutte quelle persone che rifiutano le regole classiche dell'arte, che definiremo bella e che si esprimono attraverso opere che a prima occhiata sembrano infantili, quasi scarabocchi, ma che in realtà contengono tutto il caos interiore di quelle persone. Grazie a tutti.